Buon pomeriggio, sono Giancarlo Forney e sono qui per invitarti ad un evento molto molto importante un po' spostato nel tempo per dirti la verità perché sto parlando di un doppio appuntamento in quel di Verona, la bellissima città scaligera, il 17 e il 18 di ottobre ci tornerò per la seconda volta, sono già stato a Verona a marzo di quest'anno e oggi è per esempio il 22 di agosto, almeno ci rendiamo conto anche del periodo temporale e ti dicevo ci tornerò a ottobre con un doppio appuntamento molto molto importante nel contesto di una fiera bellissima, la fiera si chiama Io Bene, Fiera del Benessere ed è organizzata da due donne fantastiche, due donne veramente in gamba Carla Zusi e Clara Crespi, cui mando un grande, grandissimo abbraccio e naturalmente le ringrazio di cuore per avermi invitato per la seconda volta nella loro bellissima fiera, nel loro bellissimo evento ti dicevo dunque che il 17 e 18 di ottobre io tornerò in quel di Verona nella città di Giulietta e Romeo e parlerò, o meglio, sarò impegnato con due eventi distinti il venerdì dalle 17 e 30 alle 19 circa, con una conferenza sull'autostima cercherò di raccontarti tutti quelli che sono i miei segreti su come volersi bene impararsi ad amare, alimentare la propria autostima e naturalmente imparare a pensare in positivo il sabato mattina invece, sabato 18 ottobre alle 11 e 30, dalle 11 e 30 alle 13 circa sarò impegnato invece in un'altra conferenza, questa volta in una conferenza molto particolare dedicata all'allenamento mentale nello sport dunque se sei un'amica o un amico a cui piace praticare sport se pratichi sport a livello amatoriale o anche a livello agonistico questo è un appuntamento molto, ma molto interessante per te perché cercherò di raccontarti alcune tecniche e ti darò qualche consiglio su come aumentare le tue performance in ambito sportivo allenando appunto una delle cose più importanti che noi esseri umani abbiamo la mente allora ti rimando al 17 e il 18 di ottobre 2014 naturalmente Verona, Villa Buri nel contesto di una fiera bellissima Io Bene, Fiera del Benessere per qualsiasi informazione mi puoi iscrivere a info-giocciolagiancarofornay.com oppure mi chiami al 392 27 32 911 Ah, dimenticavo, le mie conferenze sono gratuite l'entrata in fiera invece costa solamente 5 euro e ti permetterà di poter partecipare alle mie conferenze ma anche a tutte le altre conferenze degli altri esperti che si avvicineranno nel corso della giornata anzi, meglio dire nel corso delle tre giornate perché la fiera durerà dal 17 alla 19 di ottobre alla domenica non mi resta altro che salutarti, ringraziarti per l'ascolto e naturalmente invitarti alla Verona il 17 e il 18 di ottobre con le mie conferenze un abbraccio dimenticavo, per qualsiasi altra informazione visita il mio sito www.coachingperdonne.com ti aspetto